buonasera e bentrovati questa è radio serena punto net io sono stefano moscatelli e questo è un nuovo appuntamento con soundscape strutture musicali particolari come le scelte musicali che ci caratterizzano qui c'è un intro di tre minuti totalmente inusuale per un qualsiasi remix il brano è happy people di katie brown remixato da knee deep se vi piace il basso alzate il volume buon ascolto a 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 Grazie a tutti. 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 Se vi siete posti la domanda su chi fosse il bassista della solo iniziale di tre minuti, ve lo dico, si chiama Jürgen Attig, tedesco di Hamburgo, grande jazzista. Grazie a tutti. E da una cosa del 1999 a una cosa del 2024, turbo jazz, like you, con la voce di Rona Ray, la cantante soulful più quotata al momento. Grazie a tutti. 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 . 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 In titola. Give me the sunshine. Questi erano invece una nuova versione del 2023 di Zephyr Saint insieme a Russell Taylor. The sea bag is about to hit this halfway. We're about to have some fun today. On this road trip. We're about to have some fun today. On this road trip. As we cruise down this driveway. We're about to have some fun today. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.